via cacca azione appena ti siedi che devi cominciare il giame è tranquillo non vale agile e tranquillo perché le volte è un po' stile di solito è lì è già un ghiacolo ti siedi allora lui si sistema prende il foglio e allora senta cosa l'ha fatto allora cosa l'ha già fatto un ghiacchetto cioè mi dica poi poi si sprono un po' diventa vangone praticamente viola mi dica cosa mi sa dire nel mi dica cosa mi sa dire nell'euro tu dici tre parole e lui ti interrompe le uova sono le uova possono essere le uova possono essere le uova vuol dire che le uova poi poi lui non capisci cosa ti chiede perché non si capisce cosa ti chiede e poi quando te lo dice lui dice no non ce la fa se invece se invece a latine quando non ne può più di vedersi lì allora si sfrega ancora più complicamente cioè proprio anche così mi dica adesso mi dica cosa le chiedo mi dica me lo dica ma bene io non parlo più non parlo più mi dica i bustelli non parlo più mi dica mi dica mi dica piccolo mi go path io mi dica il